Buonasera! Buonasera! Rubendini buonasera! Rubendini, diciamo la verità stai ansioso? e ci credo, ci credo, ci credo che stai ansioso ho sei finale che fai la fila e pierdo e ci credo che stai ansioso comunque ti auguro una buona partita caro Rubendino sitchio di luta poi per l'ansia c'è l'ansiolitico e bisogna prendere l'ansiolitico per ora poi dopo a fine partita vediamo un po' cosa c'è si mangia il cocco o ti prendi il tuo resto perciò adesso quando ci manca un'ora e un quarto e l'ansia sale e l'ansia sale caro Rubendino l'ansia sale vieni a me guardami negli occhi Rubendini pigliate l'ansiolitico prima della partita non ce la fai pigliate l'ansiolitico ti raccomando caro Rubendino ansiolitico hai capito? poi dopo la partita vediamo un po' cosa prendere si ma c'è la piglia cosa c'è la piglia ce l'ha aggiunta ciao a chi un bacione e forza Napoli perché tutto resta sempre munnezzo e siccherù e buona partita ciao a chi un bacione e forza Napoli grazie grazie grazie